Con una squadra che ha lottato così e ha giocato molto bene difensivamente, come avete giocato col Friborgo in pratica? Sì, contento della prestazione, chiaramente abbiamo giocato una partita molto migliore di gara 1, siamo soddisfatti di come abbiamo giocato stasera, però è una serie di play-off quindi alla fine 1-1 la serie e non abbiamo ancora vinto niente. È stata una partita in cui siete subito partiti molto forti a differenza di Ginevra, penso che il primo tempo vi ha forse dato quella fiducia, pur senza segnando, che avete capitalizzato negli altri due. Sì, è chiaro che il primo tempo siamo usciti forti, ma credo che la reazione volevamo avere da Ginevra, siamo coscienti che non abbiamo giocato una delle nostre migliori partite, non era una delle nostre migliori serate, è anche vero che siamo in modalità play-off da più tempo, quasi da forse 3-4 settimane che siamo in modalità play-off, era stata sicuramente una serata, non abbiamo proposto il nostro miglior hockey, non abbiamo giocato come vorremmo giocare e oggi questo era un po' l'approccio che abbiamo voluto avere la partita, di ritornare subito a giocare il nostro hockey e come vogliamo giocare noi, e penso che il primo tempo è stato un ottimo segnale per tutti da quel lato lì. Sul piano tattico, non so se tu abbia cambiato qualcosa con questa partita, però si è vista una partita al contrario un po' di quella di Ginevra, dove il vostro slot è stato protetto molto meglio, perché sappiamo che di Ginevra è una squadra che fa molto male, anche dietro la porta, mentre siete riusciti a penetrare meglio nel loro slot, si sono visti diversi due contro uno, avete saltato spesso la linea blu con l'uomo in più, hai cambiato tu qualcosa? Penso che i due contro uno sono più verso la fine della partita, quando ovviamente loro cercano di fare all-in, cercano di spingere completamente i loro difensori nella nostra zona offensiva, cercare di metterci sotto pressione, chiaramente sono un po' aperti dietro, però non credo che era un trend di tutta la partita, mentre la copertura dello slot sappiamo che è un aspetto fondamentale del gioco contro di loro, la prima partita trovo che a tratti l'abbiamo fatto molto bene, però siamo stati puniti quando non l'abbiamo fatta, invece oggi siamo stati costanti per 60 minuti, penso che quella è la differenza. Saletti utilizzato in qualunque linea in cui lo metti in pista dimostra veramente di capirci bene e di saperci stare in tutte le linee, anzi in certe fa addirittura la differenza. Sì, credo che parla per se stesso come ha giocato fino ad oggi, adesso penso che non sia la serata di parlare dei singoli, ma credo che Marco ha fatto un'ottima partita, sono sicuramente contento di lui. Però quel passaggio che ha fatto Carr, per un giovane è tanta roba, eh? Sì, anche per un anziano sarebbe tanta roba. Un'altra differenza rispetto a martedì è che avete fatto molti meno falli, siete anche stati bravi a non innervosirsi, sì dopo il fallo non fischiato ad Articani, proprio su Zanetti. Sì, ma diciamo che nell'angolo lì in fondo un attimo di nervosismo forse c'era, no? Però a parte quello sì, trovo che il controllo delle emozioni è chiaro che è una cosa fondamentale durante una serie di play-off, sia all'interno di una partita che all'interno della serie, e credo che oggi siamo stati bravi a restare focalizzati sulla partita, a restare focalizzati su quello che siamo noi, su come vogliamo giocare, e questo alla fine è quello che conta, no? Poi prenderti, non serve a niente prenderti a carico di tutto quello che c'è all'esterno, quello che conta è come giochi hockey, e penso che oggi abbiamo avuto una buona prestazione. Vittorio della squadra, Cosco mi fa parte della squadra, sappiamo, però ha fatto anche lui una grande prestazione. Sì, credo che oggi è stato eccellente, è stato ottimo, sicuramente ha aiutato la squadra nei momenti in cui gli abbiamo dato lavoro da fare, credo che sicuramente c'è stata una buona prestazione davanti a lui, ma quando è stato chiamato in causa è stato pulito, è stato ottimo. Chi non avesse capito, Lugano era decimo e loro erano primi, ma chi non conosceva le squadre non vedeva la differenza fra il primo e il decimo posto. Non so bene a cosa rispondere, non so se c'è una risposta. Questa sera è così. Sì, abbiamo vinto la partita, alla fine quello che conta è che siamo 1-1 nella serie, è chiaro che se guardiamo i pronostici ancora adesso, ma adesso è un best of five, è meglio delle cinque, è chiaro che sono ancora loro favoriti, sarebbe assurdo dire diversamente, però è chiaro che all'interno della squadra non interessa chi è favorito e chi no, quando usciamo per giocare usciamo per vincere ogni partita, e adesso il focus è sulla prossima partita. Grazie.